Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia. Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi. Accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lempio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di Lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore. Perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccesse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti. E i Suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo, se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo. Non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore. E questa è la testimonianza di Dio, che Egli ha dato riguardo al Proprio Figlio. Parola di Dio. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Signore sei venuto, fratello in mezzo a noi. Signore hai portato amore e libertà. Signore sei vissuto nella povertà. Noi che ringraziamo Gesù. Alleluia, 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 Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava, Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma Egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo. Tu sei il figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Questo testo l'abbiamo sentito anche nella figura di Giovanni, l'abbiamo visto soprattutto nelle domeniche di avvento. Come colui che indicava, colui che dava una direzione, che dava una via per incontrare il Signore. Colui che diceva, ecco l'agnello di Dio. Colui che diceva l'importanza di Gesù. E oggi ci viene riproposto, come a conclusione di questo tempo di Natale, però sotto un'altra sfaccettatura, sotto un altro aspetto. Quella del battesimo di Gesù. Se durante l'avvento e nel Natale abbiamo avuto quel movimento del riconoscere Dio, oggi, nella domenica, prima del tempo ordinario, riflettiamo, meditiamo sull'altro aspetto, quello dell'essere riconosciuti da Dio. Ed è bello questo, perché significa che non è una strada unilaterale. Il Vangelo di oggi ci libera da tanti pesi che potremo portare sulla coscienza. Perché l'azione viene da Dio, nonostante tutto. Quell'azione dell'essere riconosciuti come figli. E questo fa bene. Nel battesimo di Gesù, in questo Vangelo, insieme a queste letture, ci portiamo a casa tanti spunti su cui riflettere, sul nostro essere cristiani. Il primo, che viene dalla prima lettura. Una prima lettura che, se fosse fatta ai giorni d'oggi, ci sarebbe, non so, avete presente i banchitti del matrimonio, dove sembra che la gente venga, che non abbia mangiato da giorni. Ecco, proprio quello. Quella scena lì, immaginate. Pieno di cibo. Pieno di mangiare. Perché la relazione del Signore è così. è aperta, c'è di tutto per tutti. E la cosa bella è che è gratis. E la cosa bella è che è per chi ha fame, per chi ha sete. Se tu hai fame, se tu hai sete di vita, la relazione con Dio fa per te. Altro aspetto della prima lettura, che ci dice chi siamo, proprio a partire dall'azione di Dio. Dio è colui che ha misericordia. Ed è bello come nel libro di Isaia sentiamo che quella promessa fatta a Davide, grandi promesse, una discendenza, il regno, una terra, ecco, venga fatta anche per ciascuno di noi. Inoltre, e si va avanti, e lo sguardo del Signore va oltre al nostro sguardo. Lo sguardo del Signore perdona. E l'empio abbandoni la sua via, e l'inico, e l'uomo inico i suoi pensieri, ritorni al Signore che avrà misericordia di lui, al nostro Dio che largamente perdona. Lo sguardo di un genitore, di un padre, di una madre, che quando arriva davanti al figlio, che con il penarello ha scarabocchiato tutte le pareti di casa, e non può farci niente, lo sgrida, però lo ama, lo ama tanto. E ecco il Signore che perdona largamente. E ancora, e si va avanti, le letture di oggi erano veramente interessanti, sarebbe da stare qua a parlare ore, ore, ma non possiamo. La prima lettura ci dice chi siamo, su questo aspetto, mentre dall'altra, nella seconda, cosa siamo chiamati a vivere come cristiani. Il nostro ministero. Gesù, a partire dal battesimo, inizia il suo ministero. Giovanni poi viene imprigionato, nel momento in cui sa che Giovanni viene imprigionato, lui inizia il ministero, con i tre anni di giro per la Galilea. Anche noi siamo chiamati, a partire dalla nostra identità, a un ministero. E' da un ministero che non è caratterizzato da cose, da cosa fare. Nella seconda lettura abbiamo sentito bene che come pensa Dio non è come pensa il mondo. Chi è stato generato da Dio vince il mondo. Questa è la nostra fede. Il mondo, adesso ho detto così, però pensate a questo, sotto questo aspetto. e il mondo ti chiede cose. Tu vai al supermercato, per carità, la gente deve anche guadagnarsi da vivere. Però devi fare, devi fare questo, devi fare quell'altro, devi pagare le tasse. Per guadagnarti anche un livello, un grado elevato al posto di lavoro, devi fare delle cose. Ti chiede, devi, devi fare, fai. E invece l'essere generati da Dio proviene proprio dalla sua azione. Cioè, se da una parte abbiamo il mondo che ti chiede che devi fare cose, dall'altra parte c'è un Dio che ha fatto qualcosa per te. E questo ci libera, come dicevo prima, da tanti aspetti che potremmo sentire come gravosi sulla nostra fede. Per vivere bene la fede devo fare, devo fare, devo fare, devo fare. Il Signore ti chiede di accogliere il suo amore. Sempre una seconda lettura dice che il figlio è morto per te, per ciascuno di noi. Ecco la sua grande azione. E allora, e vado a concludere, questo Spirito Santo che scende come una colomba su Gesù e a partire da questo fa iniziare la sua missione. Questo Spirito Santo scende continuamente su di noi. Ogni volta che recitiamo il Padre Nostro, ogni volta che ci mettiamo in ginocchio davanti al crocifisso e diciamo Signore, non so più cosa fare. Ecco, quella è una porta di salvezza. Quando ci riconosciamo figli, e figli amati dal Signore, non perché abbiamo amato il Signore, perché abbiamo fatto tante cose per Lui, che questo ci aiuta tanto, perché ci libera da noi stessi. Però il punto centrale è che Lui ha fatto qualcosa per noi. Essere figli di Dio, per riconoscere tanti fratelli e sorelle che vivono attorno a noi nel quotidiano. Il Vangelo di oggi ci ricorda questo, che Dio ci accoglie non per ciò che facciamo, ma per ciò che siamo, e cioè figli di Dio. Il Padre Nostro ce lo ricorda ogni volta che lo recitiamo. E questo ci dà la grazia di poter vivere nella serenità, nella semplicità. Possono accadere tante cose, cose brutte nella vita. Tradimenti, l'amico che ti ha lasciato, una relazione infranta dopo tanti anni, alcune morti, come stiamo vivendo in questi giorni. Però, nonostante questo, non viene meno l'unica cosa che ciascuno di noi ha bisogno. E c'è quella dell'essere accolti per ciò che siamo. Ognuno di noi ha degli amici. Non so se ho già fatto questo discorso, però ogni tanto è meglio ricordarselo. Alcuni amici, o le nostre mogli, i nostri mariti, chi ci ama, e spesso ci accoglie per le nostre cose belle. E sopporta un po' che ognuno di noi ha degli aspetti negativi del proprio carattere. Ecco, Dio parte proprio da quegli aspetti negativi. E ti dice che ti ama per quelli. E ti vuole rialzare, vuole camminare con te. E allora lasciamoci guidare da questo Gesù che si fa battezzare. Va da Giovanni, chiede quel battesimo dove un'acqua nuova scorrerà sul suo capo. Un'acqua nuova gli darà la forza di incominciare quella missione. E quell'acqua nuova entri nelle nostre vite. Che ci dica a ciascuno il Signore, tu sei il figlio mio, l'amato.